Sono stati diminuiti del 20% su scala nazionale i posti per l'ammissione ai corsi di laurea di medicina, odontoiatria veterinaria e professioni sanitarie del prossimo anno accademico. Per quanto riguarda l'Università Magna Grecia di Catanzaro, i posti disponibili saranno 192 per medicina e chirurgia con un'ulteriore aggiunta di 19 posti da destinare a studenti non comunitari. Per odontoiatria e protesi dentaria, l'ammissione sarà riservata a 12 matricole più 5 studenti non comunitari. I test si svolgeranno l'8 di aprile per medicina e odontoiatria, il 9 aprile per veterinaria ed il 3 settembre per le professioni sanitarie. Importante la scadenza imminente del 12 febbraio, data di partenza fino all'11 marzo, per presentare le domande di partecipazione alle prove di accesso. Il Ministero ha previsto che tale passaggio avvenga solo online attraverso il portale del MIUR universitaly.it. Sempre dalla prossima settimana il Consorzio Nazionale Cineca metterà a disposizione un call center per favorire la corretta compilazione delle domande. I risultati del test saranno pubblicati dal 22 aprile per medicina e chirurgia, dal 23 per veterinaria. La graduatoria di merito nazionale sarà invece stilata il 12 maggio. L'anticipo delle date è stato deciso per allineare il sistema universitario italiano a quello europeo con i molteplici obiettivi di favorire l'ingresso di studenti stranieri, garantire l'avvio contestuale dei corsi nei vari atenei e concedere la possibilità a chi non supera le prove di valutare scelte alternative. Anche per l'Università catanzarese si tratta comunque di un numero di posti che potrebbe essere corretto da ulteriori decreti.